amici canale europa sport bentornati a basket zoom europa stasera sono tornata anche io ciao igor buonasera ciao ciao a tutti tutti gli amici di basket zoom stasera abbiamo in collegamento con noi pierluigi marzorati igor vuoi aggiungere qualcosa a questa presentazione lasciamo che il nostro ospite ci racconti quante cose ha vinto diciamo che io faccio una piccola presentazione dell'ospite l'ennesimo ospite illustre che abbiamo in questa trasmissione e poi dopo dialoghiamo con lui per luigi marzorati vabbè perché i pochi insomma che che giocano conoscono i basket diciamo bandiera storica e anche iconica della palacanestro cantù tra l'altro una strada dove mi sembra di aver capito ha sempre giocato e dalla quale ha condotto appunto questa squadra e verci della palacanestro sia italiana che europea tant'è vero che il nostro ospite può vantare sia campionati ma vittoria anche internazionale due coppe dei campioni quattro coppe corac due coppe tercontinentali quattro coppa delle coppe se mi sono perso qualche coppa chiedo venia e magari raggiungi te no ma adesso lo chiediamo a lui direttamente di farci l'elenco completo aggiungo un'ultima cosa laureato in ingegneria e questa è un diciamo un'informazione che poi ci servirà anche perché parleremo con lui anche di un suo progetto che sta portando avanti su diciamo impianti sia sportivi che civili e ok quindi do un benvenuto a Pierluigi Marzorati grazie grazie a voi ovviamente tutti i spettatori e i telespettatori che stanno seguendo questa trasmissione di basket d'Europa e sì insomma confermo le coppie sono quelle lì diciamo che non trascurrei l'argento olimpico l'argento olimpico di Mosca e la medaglia d'oro agli europei con la squadra nazionale con la quale ho vestito 278 partite la maglia azzurra credo che questo sia un record importante che condivido col mio amico Dino Meneghin lui ne ha meno di presenze perché per infortuni ha saltato un paio di estati con la nazionale però credo che io sia stato quello che ha beneficiato dalla sua presenza soprattutto. Beh non solo penso molti altri insomma. Io vorrei partire con una domanda proprio così sulla competizione olimpica di Mosca del 1980 ci puoi descrivere un po' come è stata e insomma eravamo ancora nell'URSS c'era ancora l'URSS io non c'ero ancora era piena guerra fredda e quindi come è stato approcciarsi da occidentale a quel mondo e comunque arrivare in finale? Allora la premessa è che la mia prima olympia è stata a Monaco nel 72 dove purtroppo è successo che i fedain un gruppo settembre nero è entrato di notte nella palazzina proprio di fronte a noi che era Isla e l'Italy hanno ucciso un po' di atleti piuttosto che dirigenti hanno preso in ostaggio un po' di persone e il giorno dopo ci hanno fatto sgombrare dal villaggio olimpico e poi sapete quello che è successo hanno portato in aeroporto hanno ucciso tutti e da lì è partito una sorta di speculazione tra virgolette dell'olimpiade e quindi c'è stato il boicottaggio nel 76 a Montreal da parte dell'Unione Sovietica e tutti i paesi allineati con l'Unione Sovietica e è chiaro che nell'80 nel mondo occidentale infatti noi ci siamo presentati a quella manifestazione senza lo scudetto dell'Italia ma come partecipanti neutrali è stato abbastanza triste perché per l'amor di Dio senza adesso stare a criticare però credo che sia stato il peggior villaggio olimpico dei quattro che ho frequentato, quello di Mosca perché probabilmente anche l'atteggiamento non avere gli americani, non avere i paesi occidentali è stato un po' un'olimpiade in sottotono diciamo speriamo che sia finita questa diatriba di utilizzare l'olimpiade per scopi politici e che soprattutto si faccia valere quello che al tempo quando è nata l'olimpiade che è il momento dell'olimpiade si fermano tutte le guerre spero che sia questa un'opportunità anche se non è molto facile perché di guerra ne abbiamo in giro anche troppe beh questo è un auspicio non da poco direi visto anche il periodo storico che stiamo vivendo ce l'auguriamo tutti onestamente per Luigi la vedo molto difficile però voglio dire ci speriamo ma la vedo effettivamente molto difficile per la piega che sta prendendo in questo momento però vorrei chiudiamo l'appareggio di questo perché effettivamente non abbiamo noi le competenze per poter risolvere certi problemi certo è il tema sportivo dovrebbe dovrebbe in qualche modo agevolare la risoluzione di qualche diciamo frizione ma in questo momento è un po' difficile io faccio una domanda invece fuori dal discorso nazionale dove appunto giusto e io chiedo scusa per non aver ricordato le medaglie vinte dal nostro ospite ma perché tu avevi parlato di coppe sì giustamente vero giustamente ma scusa Luigi probabilmente c'è un errore nelle statistiche che si leggono perché come squadra di club c'è soltanto una che si chiama Cantù è un errore o è proprio così è sempre solo giocato in quella squadra? non è un errore perché a me sono fuori da Cantù per cui ho giocato solo a Cantù quanti anni? 27, 4 di settore giovanile e 23 in serie A io penso che se non è un record poco ci manca una cosa del genere perché effettivamente è un giocatore che dimostra così tanto attaccamento alla maglia e probabilmente anche alla città è una cosa più unica che rara me lo confermi? sì però diciamo che sono cambiati i tempi al tempo non c'erano i procuratori quindi non c'era interesse di far girare Marzorati in altri club perché ovviamente nei cambi di squadra, di club perché c'è qua adesso i procuratori infatti i problemi non sono mai sul compenso dei giocatori professionisti partendo dal calcio ma sono sempre le mediazioni dei procuratori che non sono mai abbastanza quindi non avendo questo problema ripeto poi va bene chiaro che essendo nato a Cantù Milano a 30 km l'università con la famiglia quindi non ho mai avuto la necessità di spostarmi perché ripeto noi pur essendo in provincia di Como dal punto di vista lavorativo graviamo su Milano quindi tutte le conoscenze dei rapporti di lavoro che attuali e futuri sono soprattutto su Milano per cui in Brianza ci sta bene non ho capito perché avrei dovuto andare a cercare altre cose insomma non ero sufficiente bravo per andare a tentare l'NBA ma ho avuto anche offerte da Marcellona piuttosto che da Tel Aviv la stessa Treviso Benetton però eravamo come si dice in regime di vincolo prima della sentenza Bosman e quindi il giocatore non poteva andare via senza l'autorizzazione del club quindi diciamo che poi il momento topico negli anni fine anni 70 qui 79 è arrivato a Cantù tale Valerio Bianchini che è coinciso con l'arrivo di alcuni anche atleti importanti e quindi ci hanno buttato letteralmente su alcune vittorie campionato le due coppe dei campioni in quel periodo lì poi è arrivato anche Giancarlo Primo che era il commissario terreno nazionale prima di Cantù e quindi diciamo che era stata formata una squadra vincente e nel triangolo Varesi Milano Cantù di quel periodo forse con un po' di fortuna abbiamo avuto l'opportunità poi è arrivato la Valanca la Valanca Olimpia negli anni 90 con D'Antoni Mekadu Meneghin che ha spazzato via tutto e in effetti mentre negli anni 70 ecco la Valanca giallo-blu di Varesi era quella che la faceva da padrona assieme a Rialmad e a Armata Rossa appunto del basket per gli artisti del basket di club europeo Pierluigi sicuramente quello era un periodo mi permette di dire fino diciamo a tutti gli anni 90 dagli anni 70 agli anni 90 dove il nostro basket oggettivamente era a un livello forse il più elevato che si poteva trovare in ambito europeo come diciamo almeno competizione media non soltanto le principali squadre ma era proprio un campionato molto molto bello dove comunque arriviamo a tantissimi giocatori anche americani non per svernare o non per diciamo tentare fortuna ma proprio per consacrazione o per affermarsi vedi possibile nel medio lungo o meno breve periodo un ritorno diciamo a queste importanti faste del campionato italiano come lo è stato in precedenza oppure in questo momento oggettivamente difficile allora separato negli anni 70 ovviamente avevamo un americano per il campionato ed eventualmente un secondo per le coppe ok poi si è allargato due anche per il campionato però insomma 8 decimi 8 dodicesimi erano italiani io stesso ho entrato 17 anni ma oggi avrei spazio in A1 essere buttato 17 anni farmi l'esperienza e se i giocatori giovani non giocano non possono migliorare altro aspetto era che noi avevamo appunto l'opportunità di giocare e si parlava soprattutto italiano quindi anche per la nazionale giocavano più giocatori italiani adesso 8 decimi 8 dodicesimi sono stranieri e spesso gli italiani hanno una presenza marginale giusto perché bisogna avere il 6 più 6 il 5 più 5 tutte queste formule qua ma che assolutamente pesano sul basket nazionale perché è diventato il campionato d'Italia fatto giocato soprattutto dagli stranieri e questo non è bene per la nazionale no soprattutto perché come dicevo i giovani per migliorare devono giocare se ci sono davanti gli stranieri è dura poi quindi non voglio dire che non si può confrontarsi perché non è che si stava meglio quando si stava peggio quelli erano altri tempi oggi abbiamo questa situazione sicuramente la sentenza Bosman ha allontanato i club italiani nell'investimento sul settore giovanile ciò che bisogna tornare a fare ma soprattutto ci deve essere una federazione che non solo concedere spazio ah ecco perché poi quando ne venivano due erano forti per davvero adesso ne venivano più otto ma sono veramente scarsi secondo me sì a volte sembra quasi che l'importante è che siano americani no che quindi già l'essere americano dà un un quid in più però effettivamente come diceva lei Pierluigi a volte sono un po' delle insomma un contorno esatto un contorno un contorno a volte richiesto anche dalla piazza insomma soprattutto quando bisogna fare qualche abbonamento in più d'estate mi sembra abbastanza chiaro il discorso che hai fatto Pierluigi colgo l'occasione visto che siamo parlando a capo dell'italiano in questi giorni insomma sono in atto le finali scudetto la finale scudetto tra un rendezvous ormai il quarto anno di fila tra l'Olimpia Milano e la Virtus Bologna ieri ti ho visto al forum quindi stai seguendo sicuramente bene la serie Milano in vantaggio 2 a 1 una vittoria bella ieri ho sentito personalmente una bellissima partita penso di dire un'opinione abbastanza condivisa da tutti come vedi in questo momento tu la serie e cosa ti ha colpito di più di Milano e di Bologna ma diciamo che hanno fatto tutti e due una stagione molto pesante perché giocando campionato Eurolega loro ormai sono a più di 80 partite come un campionato NBA e quindi ci sono giocatori abbastanza appesantiti e stanchi uno per tutti Sangheia Sangheia che a Bologna fino a Bologna e le prime due gare ha fatto la differenza ieri abbiamo visto che non c'era è vero che anche la difesa di Milano le ha preso particolarmente cura e invece Milano mi sembra che dopo la deludente Eurolega tra virgolette è costretta a vincere questo campionato per salvare la stagione anche dagli investimenti che ha fatto e direi che i tre punti di riferimento sono Melli Mirotic e Napier e C'è Shields chiaro che poi c'è Hall c'è Napier c'è Tonut c'è Flaccadori che mi piace molto più di tre di tre punti e però questi tre si giocano quei tre lì gli altri vivono il suo entusiasmo di questi tre per esempio Flaccadori è secondo me un Marzonati che è tarpato dagli americani se Flaccadori giocasse con più continuità avesse più spazio ci fossero meno stranieri secondo me è altro che un punto di forza della nazionale perché è un ragazzo tra l'altro per Luigi non male ieri la partita di Flaccadori cosa ne pensi? ma no ma perché si vede che si diverte si vede che è molto razionale in quello che deve fare sceglie il tiro al momento giusto sa come distribuire il pallone per la motivo poi qualche errore lo fa anche lui però si vede che è un giocatore diligente che entra nel meccanismo della squadra e avendo anche il ruolo di play secondo me può anche gestire la squadra beh oggettivamente Flaccadori è sempre stato comunque un giocatore ben ben visibile no ben visibile e aggiungere un'altra cosa che se quando se gioca in una squadra allenata da Messina e trova comunque spazio e minuti anche in partita importante tiendenzialmente un giocatore se ne è meritati in quei minuti al di là del fatto che uno può avere un roster limitato ma non è il caso di Milano beh visto che andiamo in direzione comunque di gara 4 per cui Milano potrebbe chiuderla mentre Bologna potrebbe riaprirla Pierluigi io chiedo a lei quale potrebbe essere un eventuale MVP della serie a mio parere il giocatore chiave è Melli che Melli sotto canestro anche ieri lo ha fatto due o tre stoppate perché poi stoppare non è quella stoppata è che tu crei intimidazione all'avversario che ha paura di venire sotto quindi uno come Melli è centrale anche per la nazionale e con orgoglio faccio questo nome non come tifoso della nazionale e poi credo che appunto in questo momento Milano ha più cartucce da spendere deve secondo me pensare a non giocare perché purtroppo tante partite io l'ho visto diverse volte al forum va avanti anche e soprattutto con le squadre forti e poi giochicchia in difesa ma ci si dà delle licenze scherzando un po' e fa recuperare gli avversari quindi credo che domani sia una partita chiave può essere l'ultima dipende solo da Milano ovviamente Bologna non era segnata ma credo che se Milano mette 40 minuti di aggressività in difesa come potenzialmente può fare adesso secondo me domani vince Milano però ripeto la quarta vediamo certo che per Milano sarebbe pericoloso perdere questa questo attuo importante in casa che può andare a vincere eventualmente a Bologna però il bello del basket è questo uno che ti fa basket dice speriamo guarda la quinta io purtroppo domani non posso venire perché ho un impegno di lavoro a Roma però lo vedrò sicuramente in televisione ecco a proposito di Meli hai parlato di stoppate importanti di intimidazione sotto canestro io aggiungo che ieri Meli ha fatto una stoppata negli ultimi 30 secondi quando ha bloccato un tiro da tre del possibile pareggio di Bologna che poi ha generato poi sul proseguo dell'azione quel famoso diciamo rimessa assegnata non assegnata a Milano poi confermata per Milano che ha alimentato polemiche inutili secondo me però effettivamente tornando al giocatore che dicevi Meli è un giocatore che per tutta la stagione ha garantito a squadra e coach proprio quella sicurezza e quella certezza non solo sotto canestro perché è una caratteristica di Milano quando riesce a correre e che riesce a farlo portando palla anche con i lunghi e forse l'unica squadra in Italia che ha questa caratteristica perché più volte vediamo come Meli come Heinz riescono a portare palla proprio per sparigliare un po' anche la difesa avversaria ieri Milano come era anche lecito a tendersi secondo me ha giocato una pallacanestro più dinamica affidandosi molto alla transizione poi è anche vero che quando è un giocatore come Mirotic che è in giornata come ieri diventa un po' tutto più facile insomma per la squadra della minighina per la squadra che ha Mirotic per la squadra che ha Mirotic soprattutto però è anche vero che Bologna ha avuto diciamo la costanza di rimanere sempre aggrappata la partita pustando sempre sotto tra l'altro seguito da un numerosissimo pubblico anche ieri al forum erano tantissimi tifosi arrivati da Bologna e soprattutto secondo me il buon banchi ha trovato una via per uscire insomma dal tonnellaggio che ha la squadra di Milano proprio con le penetrazioni di un giocatore che secondo me non è mai abbastanza diciamo considerato per quanto è ormai un campione affermato come Paiola a proposito di giocatori italiani e di nazionale Pierluigi mi fai un commento su questo bel giocatore che ha Bologna cioè Paiola beh lui è una bella guardia è una in difesa veramente terribile perché è opportunista cioè è un somma un mai drittoni con le debite proporzioni ovviamente in attacco è un po' diverso da Mike però ecco è un giocatore che può veramente essere un punto di riferimento in difesa e tra l'altro non sta giocando neanche male il problema ecco secondo me è sotto canestro perché poi non dimentichiamo che oltre Heinz e Mellic abbiamo Mirotic e Boitman perché lui sono due quattro che possono colpire da tre aprire le difese quindi che sono quattro lunghi che onestamente Bologna non ha poi magari non so può venire a Bas che si è riposato abbastanza che ha giocato poco che può dare un segnale alla partita per cui ripeto Bologna non è morta c'è una serie lo stesso Bellinelli ha una mano che è tutto sbilanciato e quando tira spesso la mette dentro e quindi è da prendere con le molle la squadra di Bologna però ecco sulla carta potenzialmente guardando quelle condizioni secondo me Milano ha decisamente un esero vantaggio sì beh Bellinelli prende dei tiri che solo lui ha il coraggio di prendere e di mettere perché anche ieri l'abbiamo visto con una tripla stupenda a mio avviso però anche Paiola come dicevi tu prima Igor ha infilato una tripla non ricordo quando secondo me verso la fine del terzo quarto o a quarto quarto avanzato adesso non ricordo esattamente che però è stata importantissima e che ha dato secondo me un po' di respiro e effettivamente ha portato la Virtus a crederci fino in fondo sì ma su Paiola io aggiungo una cosa che secondo me ha sfruttato bene i banchi l'accoppiamento con Napier in fase appunto difensiva da parte di Milano e ha permesso al giocatore appunto di effettuare penetrazioni anche perché Napier in questo momento è un giocatore molto importante e strategico per diciamo l'assetto di Ettore Messina e quindi da tutelare anche un po' per quanto riguarda l'aspetto dei falli e quindi sì confermo Paiola anche quello che ha detto Pierluigi per me è un giocatore che è il futuro è già il presente sarà il futuro insomma tra l'altro estremamente giovane sì ma soprattutto per fare un paragone mi sembra un po' il vergomi della nazionale italiana che già da giovane era esperto e anziano mi dà questa sensazione personalmente Paiola sì anche perché alla Virtus è alla Virtus da un pezzo ormai e si parla e la Virtus parla di lui e può contare su di lui ormai da quando praticamente è arrivato esatto per cui direi che insomma è già all'apice Pierluigi scusa tu prima hai parlato della potenza di Milano dal punto di vista dei lunghi in parte anche confermata soprattutto in gara 1 e in ieri in gara 3 possiamo dire che Messina da quando diciamo ha fatto delle scelte definite definitive per quanto riguarda i playoff ha trovato un po' la quadra della squadra non si può fare un gioco di parole e io penso anche l'importanza di Feutman e lo scacchiere di Milano soprattutto dal punto di vista offensivo un lungo così importante così diciamo con un certo fisico che corre ma che soprattutto ha anche un buonissimo tiro da 3 e certo secondo me appunto il valore giunto è quello lì che parte Melli e Mierotic però si sa già che entreranno Ains ha da respiro Ains e Voigtman e però questi cambi Bologna non ce li ha per cui sotto canestro secondo me ecco dipende un po' da Sengheda che ieri ho visto un po' stanco sì anche Miki ieri ha avuto tanti minuti da banchi tra l'altro ben ripagliati perché ha fatto una buona prestazione però effettivamente Daston ha giocato solo 9 minuti ha fatto 6 punti il problema è che insomma l'età diciamo a fine stagione dopo tante partite inizia a farsi sentire per certi giocatori giusto per stare in argomento finale scudetto non so se hai seguito le polemiche che ci sono state sull'arbitro sugli arbitri di queste partite prima da parte del general major di Milano e ieri in conferenza stampa sia da Banchi che da presidente di Bologna ricordiamo insomma c'è stato dopo gara dopo gara 2 insomma il general major di Milano ha chiesto di avere degli arbitri all'altezza della competizione ho trovato un po' fuori luogo questa affermazione perché insomma gli arbitri secondo me fanno bene il loro lavoro soprattutto in Italia e ieri c'è stata una rimessa un po' combattuta mettiamo un po' dubbia rivista la lista replay proprio a un secondo e mezzo dalla fine che poteva dare la palla a Bologna e provare una tripla per pareggiare è stata assegnata a Milano dopo instant replay ma né banchi né diciamo tutto lo staff di Bologna l'ha presa bene ecco come vedi Pierluigi queste questo livore che insomma comprensibile se andiamo a vedere diciamo la centrifuga emotiva di una finale scudetto però magari voglio dire la possiamo capire da giocatori da allenatori ma quando parte dai dirigenti io onestamente la trovo un po' fuori luogo non so se hai seguito non ho seguito benissimo e dico che sono d'accordo con quello che hai detto perché ripeto quando arriva la finale sia di A1 o di A2 perché ne parliamo un tempo che della A2 fare queste uscite distorre perché la tensione è già alta tensione alta all'interno della squadra tensione alta nei tifosi per cui andare ad alimentare polemiche stupide cercando di prendere un leggero vantaggio psicologico in questo momento qui fa danni perché appunto poi un errore dell'arbitro può creare visto però allora aveva ragione ma quindi si creano dei di cui non dimentichiamo anche la polemica che era uscita proprio nella finale dell'anno scorso quindi secondo me in questo momento qui forse sarebbe meglio che i dirigenti stiano un po' calmini e lasciano lavorare appunto gli allenatori i tecnici i giocatori perché e gli arbitri soprattutto in un clima sereno perché solo così gli arbitri che non fanno mai le cose giuste però a mio parere cercano di sbagliare il meno possibile credo in buona fede per cui quantomeno io ho mai messo in dubbio la buona fede degli arbitri poi certo gli errori capitano certe volte poi l'arbitro per pareggiare gli errori ne fa un altro quindi però se andiamo a stuzzicare questo clima che è già abbastanza teso naturalmente perché la posta in paglio è alta tirando fuori dei pareri delle critiche dei consigli o dei come si chiama o dei suggerimenti lo tagliarvi secondo me è alterare il clima che dovrebbe esserci invece perché come si dice la finale se la giocano due squadre e si cerca di dire che vinca il migliore ma in assoluta serenità perché poi quando è finito l'anno prossimo parte un altro campionato e quindi siamo tutti pronti ancora a essere qui a dire bene un altro campionato di partire da zero ma gli arbitri sono quelli non è che perché sbagliato la partita ricambiamo diciamo che da che mondo è mondo tra i tifosi come diceva anche Pierluigi gli arbitri sbagliano sempre però che la polemica venga direttamente dalla società in questo caso secondo me è abbastanza eclatante e anche imbarazzante sotto certi punti di vista tra l'altro la FIP ha pubblicato una nota in cui richiama appunto tutte le componenti del mondo del basket in questo caso della serie A a rispettare il clima di serenità e fare in modo che gli arbitri possano svolgere il loro lavoro la cosa che fa sorridere è che questo succede in concomitanza con quanto è successo anche in A2 che in cui di nuovo il la vicenda vede protagonisti organi dirigenziali di una delle società che era che stava combattendo che poi ha vinto la finale Scudetto e anche questo forse è peggio questo perché tra l'altro è entrato in gioco anche l'assessore del comune di Trapani allora e qui diciamo Camilla apre la strada quello che è il campionato di A2 esattamente possiamo archiviare ci ha fatto un assist tra l'altro il campionato di A2 che appunto ha visto già una squadra promossa in A1 che è appunto Trapani che ha vinto la propria finale contro la Fortito di Bologna mentre invece dall'altra parte c'è una serie che non si è ancora conclusa tra Trieste e Cantù non è un caso abbiamo qua Pierluigi e Mazzorati dove Cantù è riuscita a riaprirla vincendo a Trieste dopo aver perso le prime due gare in casa ma proprio parlando di polemiche innanzitutto diamo il giusto riconoscimento agli Sharks Trapani che hanno conquistato una storica promozione di Sferià mancavano in Sferià da 30 anni e qui la polemica era già nata dopo gara 2 a Trapani e il ritorno a Bologna era già bello caldo e diciamo fomentino tra l'altro la cosa è culminata col fatto che non è stato concesso alla squadra vincitrice appunto Trapani di festeggiare in campo la consegna del trofeo per la promozione e questo ha scatenato una serie di polemiche ma dove è stato consegnato questo è sotto scala del palazzetto sì la cerimonia è stata fatta proprio in un posto che ha scatenato l'ira del presidente di Trapani e dell'assessore e dell'assessore anche perché chiaramente in questo momento Trapani rappresenta un po' dal punto di vista sportivo fatemi dire la carta entità di una città che ritrova la massima serie in una competizione sportiva importante come appunto la pallacanestro e quindi c'è molto diciamo tutto viene un po' amplificato però Trapani ha fatto un campionato diciamo di livello ha fallito la Coppa Italia di categoria ha investito tanti soldi ha fatto una squadra molto forte e ha meritato comunque la promozione mi ha sorpreso un po' perché certo ha affrontato la fortitudo in un momento in cui l'MVP della propria squadra appunto Aradori si è infortunato e l'allenatore esperto come Attilio Caia ci ha provato a rimettere in piedi una serie ma poi alla fine il maggior talento la maggior forza fisica di Trapani si è fatta sentire per Luigi io penso che tu abbia seguito un po' quelle che sono state anche diciamo le finali di A2 mi dai un commento su questa promozione di Trapani allora sicuramente è una squadra che ha investito tanto un presidente abbastanza focoso e vorrei approfittare non solo nei suoi confronti perché non è scritto che un grande imprenditore è un grande dirigente sportivo no quindi credo che tanto per fare un esempio del calcio Beppe Marotta è diventato presidente dell'Inter ma soprattutto un grande manager forse il numero uno dei manager dei club oggi ma facendo una gavetta che è da 40 anni per esempio paragonando quello che è successo all'altra squadra milanese Ibrahimois non può pensare di diventare Marotta in tre mesi no per cui non è giustificabile che i dirigenti siccome mettono tanti soldi allora io devo essere rispettato no tu devi essere rispettato come dirigente innanzitutto a prescindere dai soldi che metti ma soprattutto devi rispettare l'ambiente in cui sei venuto e capire che ci sono degli equilibri che partono appunto dall'arbitraggio dal rispetto degli avversari alcune regole che fanno parte del basket che devono portarci a giocare le partite non condizionando perché io sono bravo sono motivatore perché poi vado e esulto la tifoseria avversaria mi insulta perché così proteggo la mia squadra questi giochini qua il numero uno è Dan Peterson ok e quindi poi le facevo in modo intelligente la persona dell'ambiente per cui direi che certe uscite se magari ce le risparmiamo un attimino e ripeto rispettiamo le regole perché troppa gente che entra in questo modo poi dopo due o tre anni vede che non si può sempre vincere ma bisogna sapere accettare anche le sconfitte e difficilmente le accettano abbandonano il basket per cui è un rispetto che devono avere chiunque entra nel basket in quello che è la situazione del basket attuale che ha beneficiato di contributi di personaggi storici nel passato ma che comunque adesso c'è la struttura la federazione ci sono le leghe che gestiscono i campionati ci sono gli arbitri e vanno rispettati un po' tutti non è che perché io metto i soldi allora io la mia squadra deve vincere metto i soldi e entro in un sistema che ha delle regole che devo rispettare per primo perché poi se questa è l'azione la reazione è contraria e magari spesso non uguale ma anche peggio e quindi peggioriamo il vero messaggio dello sport del basket che è quello di trasmettere dei valori che non solo sono i risultati sportivi ma anche quello che siamo tutti in un circo che ci divertiamo siamo stati fortunati di nascere in Italia invece che in Israele in Palestina o in Ucraina o in Russia o in un paese africano e il basket è soprattutto divertimento quindi le battaglie le possiamo fare per altri allora io il riferimento è chiaramente al presidente della scuola di Trapani Valerio Antonini personaggio un po' diciamo focoso e mi permetto di dire un po' bingo detto ciò però questo rende anche un po' fa un po' capire che effettivamente se personaggi che investono tanti soldi poi si si erano anche a voler fare attività dirigenziali effettivamente le due cose spesso non vanno di pari passo stiamo restando però che effettivamente qualcuno l'ha consigliato bene perché i soldi spesi sono stati ben investiti in giocatori comunque di talento e io penso che da un punto di vista mediatico il presidente dell'Elega Basket Umberto Gandini secondo me si sarà già fregando le mani su quello che potrà succedere l'anno prossimo avendo un personaggio di questo tipo in sala stampa in conferenza cioè è un personaggio quello il presidente di Trapani che insomma è pronto a spazzare via a spazzare via quelli che sono un po' i canoni classici insomma delle indichiarazioni dei personaggi della palacanestro italiana detto ciò tornando invece sul campo l'altra serie invece è una serie che secondo me sembrava chiusa morta e sepolta dopo le due vittorie di Trieste in quelle di Cantù invece in gara 3 Cantù ha scoggiato una bellissima prova io dico più offensiva che difensiva e riuscita a vincere appunto a Trieste e tra l'altro aggiungo una cosa se andiamo a vedere tutte le partite di Finals di O2 c'è stato un incredibile diciamo boom di presenze al palazzetto e sono state segnate anche dei record domani misti per quanto riguarda l'audience televisivo Pierluigi al di là del fatto che poi ci farai un commento su quello che è la situazione della tua Cantù nella serie con Trieste come si spiega tutto questo interesse affetto amore per delle partite di A2 quest'anno avevamo dei club al di là di Trapani Fortitudo Cantù e Trieste che sono state alla finale però non dimentichiamo che c'era Torino c'era Forlì c'era Treviglio c'era Verona c'era Udine tutte squadre che si erano attrezzate anche in modo importante e quindi è chiaro che il blasone di questi club ha creato un ulteriore interesse poi città ieri è stato il lunedì ero a Trieste a vedere la partita a 7.000 persone biglietti venduti strapieno ma se ne avevano uno da 14.000 lo riempivano perché c'è una fame per esempio Forlì è stata sfortunata che ha avuto l'incidente dell'americano che l'ha tolto contrariamente a Trieste è avuto Reyes infortunata nel corso della stagione adesso ha recuperato e sta dando un rendimento ha fatto 3-0 a Torino 3-0 a Forlì e ha fatto 2-0 a Cantù quindi adesso Cantù sicuramente ha un potenziale secondo me che può andare alla quinta partita però non sottolutiamo Trieste perché ripeto è una squadra con una proprietà ecco proprietà americana che mi sembra che sia entrata in punta di piedi nel rispetto delle regole io ho avuto l'opportunità di conoscere proprio di persona prima della partita lunedì e credo che l'atteggiamento del dirigente americano è molto più diciamo pacato ha parlato della necessità di quello che vogliono fare come investimenti sul marketing sulla promozione sulle scuole hanno tante idee per creare prima di tutto il bello del basket che è lo spettacolo certo che l'importante vincere sia non l'unica cosa però questo è il livello di battuta la cosa importante ripeto di alzare la qualità del basket della partita di basket quindi alzare il numero dei partecipanti gli spettatori alzare anche il livello dei giocatori italiani rinforzando gli investimenti sui vivai italiani quindi ci sono una serie di cose non è che finalizziamo come pensa qualche sponsor a me adesso sono vice con la mia squadra perché devo far conoscere il mio marchio sì capito non siamo qui al servizio del brand che deve pubblicizzare uno sponsor ma siamo più per cercare di far crescere un movimento e tutti quanti dobbiamo lavorare in questo senso beh ci sono personalità e personalità come appunto hai fatto presente tu prima il presidente proprietario di Trapani ha già parlato di Euroleague quindi direi che qui non si parla solo di vincere ma di stravincere e di puntare estremamente in alto secondo lei mi scusi Pierluigi Trieste quindi ha tutte le carte in regola per portare a casa questo questo campionato e competere per la salvezza o diciamo di più l'anno prossimo se dovesse appunto chiudere chiudere la serie allora innanzitutto spero che vinca Cantuccia io lo sapevo giustamente tra l'altro mentre stiamo parlando stanno giocando in questo momento esatto e Trieste io credo che veramente hanno le idee chiare vogliono fare un investimento anche sull'impianto sul palazzetto hanno anche altre idee che poi l'hanno parlato in due minuti però si vede che c'è la concezione di venire e salire e poi cercare di mantenersi poi dipende poi come si muoverà il mercato dipenderà dall'allenatore dipenderà dal direttore sportivo general manager in base a quello che si ha di fronte e faranno degli investimenti c'è uno quando viene su poi per esempio Pistoia che siccome è stata una bella sorpresa quest'anno è venuta su pensavo a tutti ma vai che retrocede subito invece ha fatto un campionato e è arrivato in playoff quindi meritatamente per cui non è detto che una neopromosta debba giocare appena retroceda teoricamente parte con quello obiettivo ma poi appunto se indovina se c'è un'amalgama tra proprietà dirigente sportivo o direttore generale e allenatore che riescono a fare una campagna come si deve e poi certe combinazioni l'amalgama nello spogliatoio stesso perché quando c'è un clima sereno lo spogliatoio e si parte bene una volta si diceva chi riesce a mettere fiene in cascina da subito è chiaro che poi l'ambiente è più rilassato gli allenamenti si fanno con più piacere non si fa oggi devo andare all'allenamento no oggi vogliamo andare all'allenamento perché stiamo facendo un percorso bello importante stiamo migliorando e singolarmente come squadra per cui lo spogliatoio psicologicamente ha una grande spinta quando si perde vediamo la stagione di Milano in Eurolega ha cominciato a perdere a perdere mentre quella di Bologna esattamente il contrario che in Eurolega ha fatto bene poi il numero delle partite giocando in Eurolega le ha portate in questa condizione su una condizione che ha la panchina più lunga magari è più in salute rispetto all'altra però ripeto hanno fatto una signora stagione tutte e due a prescindere dei risultati Luigi siamo in chiusura io prima di chiudere però volevo chiedere visto che hai accennato anche un po' al progetto del palazzetto di Cantù con il quale tra l'altro abbiamo parlato con il general manager qualche settimana fa e ci ha spiegato anche un po' quello che è il progetto ci racconti un po' invece quello che è il tuo di progetto proprio in merito a di qualificazione degli impianti sportivi e non solo è molto interessante molto utile e secondo me tanti in Italia avrebbero bisogno di una sua consulenza ma non è un mio progetto diciamo che si è partito da me perché io l'ho appeso l'anno scorso quando i costi del metano erano dati alle stelle la famosa problema con la Russia e quindi il direttore di Aspes che è il direttore dell'avvento di Figorena ha detto se a queste cifre dell'energia io tra tre mesi chiudo perché non ce la faccio siccome è una criticità di tutti gli impianti allora lì mi è scattata l'idea perché non dobbiamo fare qualcosa sugli impianti esistenti da efficientarli perché diciamola come dal 2000 in avanti credo che l'unico impianto che ha avuto un adeguamento sia stato quello della Virtus Segafredo ma gli altri sono tutti impianti anni 90 80 70 60 quelli di Roma per esempio erano i 50 anche qualcuno un piccolo intervento di di riqualificazione efficientamente è stato fatto però l'unico impianto moderno è quello di Torino lo possiamo dire l'attitudine arena sì infatti è stato costruito per le Olimpiadi del 2006 è quello che anche funziona sotto l'aspetto delle manifestazioni extrasportive e devo dire che partito da lì sapendo che abbiamo un'Europa che ci spinge come nazione ad adeguarsi all'efficientamento energetico all'abbattimento dei consumi sicuramente ci sono dei premi per quanto riguarda la decarbonizzazione quindi trasformare per esempio stupidamente le vecchie caldaie con delle pompe di calore quindi togliere idrocarburi a favore invece di energia prodotti da fonti rinnovabili e da qui parte un discorso di risparmio energetico ma anche di migliorie per far sì che gli impianti siano più idonei e performanti rispetto anche alle manifestazioni che si possono organizzare al di fuori dell'attività sportiva basket e bolle che siano però poi non dimentichiamo che gli impianti sportivi più erisivori sono il ghiaccio soprattutto le piscine che col covid sono state veramente massacrate perché pur non avendo le persone in regime covid che non potevano andare in piscina ma gli impianti bisogna tenere attivi perché se no uno ferma gli impianti per due anni poi lì deve rifare quindi abbiamo scoperto che anche gli stadi possono essere i sottotribuni che hanno spazi destinati a attività commerciali uffici spogliatoi e quant'altro quindi c'è un mondo credo che l'Olimpia di Milano-Cortino 2026 ci può dare questa opportunità sapendo che il GSE può contribuire con dei finanziamenti a fondo perduto e poi proprio il GSE con Sport e Salute ha fatto un accordo su dei finanziamenti che tramite il credito sportivo possono arrivare al Comune addirittura tasso zero per 10, 15, 20 anni quindi è una strada assolutamente da percorrere partendo proprio da quello che ci ha chiesto l'Europa in questi ultimi anni e che sarà il futuro nei prossimi 10, 20 anni perché negli anni 70, 80 l'energia vabbè ci sono i posti in Arabia vai là che vai bene portiamo il Greggio e andiamo avanti e adesso quando cominciamo la benzina oltre i 2 euro il diesel gli va dietro e qualche conticino se poi il sole che c'è magari sì è più efficiente a Dubai a Abu Dhabi ma anche noi non scherzo insomma abbiamo dei paesi del meridione che non sono tanto distanti dalla potenza dei paesi arabi e poi abbiamo l'eolico abbiamo l'idrico quindi abbiamo delle fonti rinnovabili in Italia e perché non sfruttarle è un dovere che dobbiamo portare avanti quindi ci siamo impegnati su questo sicuramente i ministeri le stesse federazioni tutti hanno capito questo messaggio e lo stiamo portando avanti con entusiasmo beh è un progetto per cui si fa del bene a noi stessi in primis si aggiungo io speriamo appunto che questi fondi quindi vengano presi e utilizzati in maniera corretta insomma per il beneficio di tutti insomma poi io penso che fa più piacere andare in un palazzetto a vedersi una partita di basket sapendo che l'impatto insomma di tutto quello che ci intorno al palazzetto è un impatto zero questo a me personalmente gratifica molto sì anche perché quando poi ti trovi in quella in quell'atmosfera in quei in quegli edifici così grandi è un attimo che ti guardi in giro e dici caspita ma chissà quanta energia quanto c'è dietro a tutto ciò per farlo per farlo funzionare effettivamente e sapere che è a impatto zero o quasi è sicuramente una notizia che fa bene come dicevamo prima bene ok io direi che possiamo liberarlo alla conclusione della puntata e io veramente ringrazio di cuore per la disponibilità il nostro ospite di oggi quindi Pierluigi Marzorati se sei d'accordo Pierluigi ci possiamo sentire anche più in là eventualmente per un altro un altro collegamento abbiamo avuto qualche problema di collegamento prima della puntata siamo stati aiutati insomma a collegarci quindi sperando che sarà più facile il collegamento io ti ringrazio intanto e niente ci vedremo sicuramente prossimamente prossimamente se non sui campi di basket qui in puntata ma io vi ringrazio perché appunto una televisione come la vostra credo possa fare parecchio anche proprio quello che c'è sotto basket zoom Europa credo che possiamo veramente guardare l'Europa soprattutto non solo di diritti perché l'Europa ci deve dare ma anche poi adeguarsi a questa normativa normativa di risparmio abbattimento dei consumi risparmio energetico ma intelligentemente utilizzare invece di utilizzare il campo centrale per gli allenamenti diciamo che costruiamo una piccola palestra invece di 60 70 mila metri cubi di 10 mila metri cubi facciamo gli allenamenti durante la settimana lì e utilizziamo l'impianto magari più confortevole per manifestazioni trasportive che generano i guadagni anche per il gestore e proprietario dell'impianto sportivo non è che inventiamo la cocada è quello che fanno in America da qualche decennio non dall'altro ieri e se funziona là perché non deve funzionare anche in Europa e in Italia quindi buon lavoro e grazie a voi per questo collegamento io la ringrazio e nel ringraziarla aggiungo che vabbè tanto in Italia sappiamo che le cose arrivano dopo quindi forse è il momento esatto per farle arrivare anche da noi noi abbiamo chiuso per stasera ci vediamo la settimana prossima e potremo commentare finalmente la squadra che si laurerà campione d'Italia sia di A2 perché è la seconda squadra e sia di Serie A vi ringrazio per averci seguito ci trovate su tutti i social come canale Europa Sport e noi ci rivediamo qui la settimana prossima ciao 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 Grazie per la visione!